Un milione di tazzine di caffè servite in otto anni di gestione. Questo è il curioso traguardo tagliato dalle pasticcere Alberini, quella di corso 11 settembre dove ci troviamo oggi e quella omonima di Vianitti. Un traguardo che la famiglia Santini che ha preso in gestione queste due attività otto anni fa ha deciso di celebrare oggi servendo caffè e cappuccini gratis per tutta questa giornata del venerdì 24 novembre. Insieme al nostro partner che è Saccaria Caffè con la quale collaboriamo da otto anni abbiamo fatto una stima e loro hanno detto guarda che con i chili che avete fatto di caffè facendo un conto di quello che possono essere gli scatti con un chilo avete superato il milionesimo caffè o ci state andando vicino e quindi da qui è nata questa gioia di far conoscere un pochino anche tutta la città chi non è il nostro cliente come lavoriamo noi perché non solo c'è una cura nelle materie prime, nella selezione dei prodotti che si mettono in tavola a mangiare ma anche sul caffè c'è una ricerca che noi insieme a Saccaria abbiamo messo a punto quindi dalla selezione del caffè, dalla manutenzione della macchina, dalla cura con la quale si pigia il caffè, si pulisce il macchinino, tutto un insieme di cose che portano a lavorare in una determinata maniera in più mio figlio che è assistente maestro al caffè ha fatto il percorso formativo, l'anno scorso è arrivato terzo alle gare nazionali di latte art c'è tutto un mondo dietro, come si monta un cappuccino, come far diventare cremoso un cappuccino, tutti i disegni che si fanno e quindi abbiamo pensato di offrire insieme a questi nostri partner, anche Trevalli che ci fornisce il latte, questa giornata di festa che vogliamo condividere cade proprio anche nel Black Friday in modo tale da rimanere in tema con il discorso dei caffè e dei cappuccini offerti noi ormai l'abbiamo già superato questo milione di caffè però comunque è un bel traguardo da festeggiare allora ci è sembrato consono offrirlo a tutti, quello che è il caffè e il cappuccino maggio Grazie a tutti